L'ultima cena, opera d'arte tra le più note della settimana santa di Caltanissetta, storica scultura in legno e cartapesta creata dagli scultori napoletani Vincenzo e Francesco Biangardi, si trova esposta fino al 21 marzo al molo E, aria in bacchi internazionali dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. Il progetto espositivo denominato La Passione nel cuore della Sicilia è un'iniziativa del comune di Caltanissetta in collaborazione con l'associazione Unione Panificatori Nisseni, proprietaria della storica Vala e gode del patrocinio gratuito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Grazie.